Italo Tempesti, socio della Seat Raga, una mattinata particolare Italo, scoprite una targa per Luigi Gragnani, un giovane scomparso una decina d'anni fa e che ha lasciato a voi un grande ricordo. Gigi Gragnani, oltre ad essere amico, era anche una bravissima persona che a suo tempo ha fatto il possibile e l'impossibile per prendere in utilizzo quest'area. A suo tempo era sterrata senza impianto di luce e iniziamo a lavorare qui grazie a lui con 10-12 mila metri quadri di cui 8 mila sterrati che poi grazie sempre a Gigi furono asfaltati e di lì iniziò la storia del termine. Ora attualmente abbiamo in utilizzo circa 80 mila metri e lavoriamo con l'armatore Grimaldi e era già un po' di tempo che pensavamo io e l'altro mio socio Franco Ercoli di ricordare Luigi. È venuto il momento, visto che il lavoro fortunatamente sta andando bene, è venuto il momento di ricordarlo. Oggi sarebbe contento. Penso di sì, conoscendo Gigi penso che sarebbe molto contento, anche perché prima di lasciarci mi chiese di fare sempre il possibile per non farti levare quest'area. E io ho sempre fatto il possibile insieme a Ercoli e siamo riusciti. Grazie. Grazie.